Per me la Piaggio è stata una famiglia, è stata importante, ricordo che mia mamma quando ho detto che mi avevano assunto la Piaggio, lei ha detto è come avessimo fatto un 13 al totocalcio, perché io non avendo studiato, a 13-14 anni lavoravo già, lavoravo sotto un artigiano, facevo molte ore alla settimana, lo stipendio era quello che era, a volte lo faceva anche aspettare, anche per contributi, tutte queste cose qua. Quando io ho fatto la domanda, non avendo studiato, ho provato a fare la domanda e a 20-21 anni mi hanno assunto, sono entrato nel reparto aggiustaggio, mi avevano detto che avrei imparato a fare un tipo di saldatura, la saldatura Argon che non si faceva in parecchie parti, Minetti era caporeparto dell'aggiustaggio dove credo fosse andato in America a imparare questo tipo di saldatura, e poi ce l'avevano insegnato, eravamo una quindicina, entrando a settembre ho cominciato a imparare e poi piano piano sono entrato anch'io a saldare. Sono stato circa 7-8 anni in quel reparto lì e poi un po' di crisi, una cosa e l'altra, mi hanno cambiato qualche posto, un po' nel magazzino, e poi mi era uscito il posto in Galvanica e io sono entrato, sono stato spostato alla Galvanica Nord, all'inizio mi occupavo dei decappaggi e poi successivamente nella revisione dei motori, tutti gli anni li ho passati a fare i trattamenti e i pezzi dei motori, in pratica c'era il reparto motori a fianco e c'era il lavaggio motori, i motori della battuglia acrobratica, i Viper, tutti quei motori, venivano smontati e venivano lavati e poi venivano portati nel nostro reparto, il nostro reparto era la prima fase che vi erano i sabbiatori, poi vi erano i galvanici, il reparto galvanica e poi per i pezzi che andavano verniciati passavano alla verniciatura. Saremmo stati circa una trentina di colleghi, nel mio compito era quello di prendere i pezzi, li mettevo a sverniciare, poi se era il caso, certi pezzi non si potevano sabbiare, quindi li dovevamo sverniciare chemicamente, poi venivano di nuovo messi dentro, li legavo, tanti pezzi, nell'accadmiatura doveva essere la continuità, quindi venivano legati col filo di rame, questi pezzi venivano legati tutti uno a uno e venivano immersi nelle vasche e io, ripeto, facevo l'accadmiatura e l'argentatura alle palette e a tutti questi, io sono stato in piaggio fino a dicembre del 2003.